E' la mia vita! 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 Quella canzone mi riduce a pezzi? Sì? Ragazza, quei cose finiranno in trazione se non ti dai il minuetto. Ah, è come un magazzino per la carne. In effetti è un magazzino per la carne. No, ci ho provato tutto il giorno. Bene, vi prendo domani. Sei sicura? Questa è troppo. Grazie. Non la trovi? Il telefono di Darrell non funziona. So solo che si è trasferito di nuovo con lei in qualche nuova baracca.